Intanto questa palla recuperata proprio da Rebic su Ghiglione, bellissimo suggerimento per Origi! Chiuso da Carnesecchi, che palla di Rebic e che parata di Carnesecchi sul tentativo di Origi! Resta l'occasione per Origi con Carnesecchi chiedere la porta, parata di piede, molto prezioso! Vatonali, colpo di testa di Malik Chao! Carnesecchi! E poi a Fena Ghian! Buona reattività del portiere della Cremonese! Altra occasione Milan, il colpo di testa di Malik Chao! È anche abbastanza angolato! Il tedesco va vicino al suo primo gol in Serie A Team nella serata del debutto da titolare! Va largo da Brahim Dias, subito sfidato da Vasquez, va in velocità Brahim Dias che poi sterza, raddoppio, prova a tenere palla! Contrastato riesce comunque a servire Messias! Che libera al sinistro Carnesecchi! Altra parata! Poi Rebic al volo! Altra parata! Almeno la terza significativa all'interno di questa partita di Carnesecchi! Leao! Il costento! Cercare Messias diventa un tiro! Carnesecchi! Prende anche questa! Primo pericolo creato da Raffaele Leao! 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 Grazie a tutti.